e salve a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video allora oggi visto che questo è il nuovo episodio di caressing is life vabbè non mi ricordo più il titolo non li vedo meglio dopo cioè praticamente in questa nuova gara ci troviamo a spa franco shams oggi faremo due gare oggi saremo a spa proprio un circuito di formula 1 che ormai ci credo che ormai conoscono tutti anche quelli non esperti soprattutto per la la e russia la curva dei coraggiosi vabbè siamo sempre con la mercedes entrambe gare fermo con mercedes siamo più magari e spero tanto di vincere ottimo la partenza è andata poi andiamo a recuperare gli altri ok abbiamo attraversato le ruche e siamo veramente usciti bene continuiamo così fino alla fine ho notato che nella chicane tanti sbagliano infatti ho visti due che hanno sbagliato infatti hanno perso tempo ok poco importa andiamo a recuperare gli altri forza infatti ormai è impossibile recuperarli perché tanto ormai sono altraguardo sono a tanti secondi da me comunque poco importa ha una buona posizione portiamocela a casa bella gara dai difficile ma ce l'abbiamo fatta la prossima gara sarà ancora più difficile perché siamo sul circuito di formula e proprio formula e qui c'è un circuito strettissimo con delle mercedes gt alcuni prenderanno auto e altri dobbiamo passare proprio nel millimetro per vincere raga spero tanto di vincere questa gara e ovviamente potrei buffare in questo momento ma spero tanto di vincere questa gara ok andiamo alla gara spero tanto di vincere o almeno di fare del mio meglio buona fortuna buono la partenza è andata andiamo a recuperare gli altri raga veramente per farste culo bisogna fare proprio al millimetro bisogna fare perfettamente ok siamo secondi andiamo a recuperare il primo dai aiuto per poco sbattivo ok leviamoci dalla testa questa cosa e andiamo a recuperare il primo dai e andiamo a recuperare il primo e andiamo a recuperare il primo Dai, dai, forza Dai che dobbiamo recuperare il primo Non perdere tempo, forza E va bene, ormai non possiamo più prenderlo È troppo tardi, stiamo arrivando Ok, poco importa, buona posizione Portiamocela a casa Ragazzi, oh, sono praticamente passato nel millimetro Come vi ho detto io all'inizio Cos'è per dire quel futuro, per caso? Ok, spero, queste game sono veramente piaciute anche a me Spero tanto che questo video vi sia piaciuto Mettete like al video, iscrivetevi al canale Ok, salve a tutti ragazzi, ciao!